Ciao Glitters e bentornati sul canale! Guardate cosa abbiamo oggi! I nuovissimi slime dei me contro te! Yeee! Glitters, appena abbiamo saputo che c'erano questi slime in edicola siamo corsi a prenderli per recensirli! Esatto Glitter, è una splendida novità di quelli che sono gli youtuber più famosi di sempre Li trovate in edicola al costo di 3,50€ insieme a questo giornalino e appunto sono slime cotton squishy ci sono tutti quelli che possiamo trovare hanno anche dei braccialetti morbidissimi vediamo un po' ci sono dei cambia colore poi ci sono... io non so quali ho preso ci sono anche i glow in the dark oh io credevo fosse questo glow in the dark, invece no allora dopo vediamo quali abbiamo preso questo lo teniamo qui e nell'unboxing di oggi ci aiuteranno Daisy e Didi sì, che bello, sono troppo eccitata, non vedo l'ora di aprire questi slime sì, anche io, moltissimo un po' di entesiasmo allora, io direi di iniziare da questo che ha più o meno i miei colori ok, allora questo sarà il nostro primo... è giallo vediamo... no eccolo qui cioè, niente? non fa niente? non ha effetti speciali? ok chissà, forse è solo un mix di colori allora questa qui è la confezione i slime della Diramix devo ammettere che mi hanno sempre tanto colpito e non mi hanno mai deluso quindi speriamo bene e poi comunque i miei controttei sono degli esperti di slime quindi non penso abbiano fatto degli slime scadenti questo è il braccialetto guardate che bello è bellissimo, mi piace da morire guardate è super super morbido ok, e questo è lo slime ah, è tutto rosa che strana... che strana consistenza perché adesso sembra molto molto duro è proprio strano wow ma che... oddio no, vabbè aspettate, sento un attimo l'odore sa di... di dolce che bello dico una cosa strana sa di dolce natalizia allora, è una cosa molto strana perché sembra appiccicoso in realtà le mani non si attacca niente vediamo un po' l'effetto cotton candy oh, ma guardate guardate wow no, vabbè glitter sì io non ho mai visto una cosa del genere anche perché poi torna tutto perfettamente come... ma... sono senza parole perché è proprio strano anche se tiro più forte lo slime comunque non si rompe cioè, ma guardate qui ma... poi... allora praticamente quando lo aprite lo slime così e lo toccate è proprio... wow sembra tipo nuvola sembra zucchero filato ecco oddio bellissimo ci piace cioè, io non faccio altro che maneggiarlo perché è troppo bello mi piace questa rosa ok brava candy guardate i glitters non si attacca nemmeno alle lol cioè questo slime non resta appiccicoso da nessuna parte che bello è per questo che ho fatto la prova brava candy però effettivamente questo è più un rosa didi è super bello wow sì lascia le impronte sì lascia le impronte che cosa figa bello 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 il primo è andato molto bello poi guardate su ogni confezione c'è una foto dei miei contro te ne ho visto uno anche con il signore S però non mi piaceva tanto il colore adesso questo viola guarda che bella foto di Sofì Sofì mette subito allegria anche solo guardandola in foto ah ecco qui questo viola è proprio vicino a quest'altro che abbiamo preso e anche questo sembra non avere nessun effetto vediamo subito oh è troppo bello questo braccialetto allora anche sui braccialetti c'è sempre una scritta diversa qui c'è scritto viva i daily vlog guardate che belli apriamo questo è tutto ma è lo stesso rosa oh no ma sono uguali uffi questi braccialetti non fanno capire il colore no ma pensavo fosse viola ma è uguale wow quanto elastico si si è proprio uguale ma quanto è strano questo slime glitter non ve lo so spiegare beh si è lo stesso di prima ok glitter questa volta è andata male mi spiace uffa niente viola per me io voglio aprire questo col braccialetto turchese ok apriamo questo che ha scelto desi che come vedete ha come immagine la versione cartonizzata di sofì questo è scritto yeah 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 mi 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 guardate che belli adoro questi tre colori insieme oh ma questo è rosa chiaro no non ci posso credere ho scelto quello rosa candy oh beh e che c'è di male il rosa candy è un colore bellissimo faccia aprilo se desi non lo vuole lo prendo io vediamo wow glitter ma che rosa bellissimo però qui c'è scritto che questo è un cambia colore sì questo è un cambia colore e come questo è ancora più soffice ma questo è proprio zucchero filato guardati guardati no vabbè wow glitter è svenuta dalla bellezza di questo slime no vabbè ragazzi è una cosa che incanta cioè è proprio strano non sono paragonabili a nessun altro slime perché comunque se tipo voi fate così non è che sono proprio morbidi oppure ecco tipo vedete se lo tenete così non è che cola come lo slime normale sono veramente molto strani però questo è molto molto più morbido degli altri e poi appunto una cosa bella è che quando lo tirate è come se lo slime volesse tornare indietro ed è bellissimo guardate guardate quanto si allunga appoggiamo desi nel rosa sì no non farmi questo oh desi rosa ti dona tantissimo no lasciatemi andare oh è bellissimo e poi che profumo sa di rosa è vero candy wow glitters questo è un profumo bellissimo però guardate se li tenete un po' in mano guardate qui oh sì questo slime è assolutamente candy approved comunque se lo aprite così tutto poi è come avere una una nuvola in mano è una cosa troppo bella non so se riuscite a capire cosa voglio dire dalle immagini ma insomma sicuramente se l'avete già comprati fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti riguardo questo stranissimo e originalissimo slime sono l'unica cosa non ho capito come cambia colore credevo con la temperatura della mano invece dobbiamo vedere un po' al sole comunque più lo maneggiate e più è bello e poi questo ha un profumo di rose che è bellissimo come ha detto candy guardate qui io non riesco a smettere di fare questa cosa ok glitter sì io l'ho messo al sole ma non ho notato nessun cambiamento proprio niente di niente wow no vabbè ma è una cosa spettacolare cerco questo verde così a mia sorella rimane un altro rosa povera desi purtroppo non l'hanno fatto nero ok allora apriamo questo qui c'è lui su questo braccialetto c'è scritto me contro te o me contro te oh bellissimo voilà oh ma questo è blu ma che bello ma allora i braccialetti non non c'entrano niente con con lo slime che c'è all'interno ho ancora un po' di rosa candy eccolo qui anche questo dovrebbe essere un cambio colore quindi vediamo boh io sto cambio colore non è che lo vedo eh non lo so ah ecco cioè diventa vedete aspettate diventa un poco poco più scuro ma oddio proprio poco cioè proprio una cosa minima che diventa più scuro ehm ok allora maneggiamolo un pochino guardate che bello wow questi per Halloween poi sono perfetti guardate cioè sembra proprio effetto ragnatela molto bello ci vuole un po' di forza per tirarli però il fatto che comunque tirandoli non si rompono guardate qui guardate qui è molto bello sentiamo l'odore di questo oh glitters questo ha un odore bellissimo perché è molto dolce sa tipo un po' di vaniglia non lo so comunque bello 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 le profumazioni sono veramente belle quella alla rosa non la batte nessuno quelli della diramix a fare le profumazioni sono troppo bravi questo si rompe un po' si questo è un po' più duro quello rosa era perfetto bene non resta che aprire il rosa beh ma non lo sappiamo se il rosa magari è un altro colore speriamo ah ma c'è scritto sopra cambia colore ok no che peccato non ne ho preso nemmeno uno glow in the dark perché credevo che fossero tipo bicolor questi infatti ne avevo preso uno bicolor e credevo che questo fosse il glow in the dark perché di solito il glow in the dark sono di questo colore questo è viola con questo braccialetto c'è proprio il logo dei miei contro te ecco qui tutta la mia collezione di braccialetti beh si dai il viola mi piace oh ottimo vediamo questo viola che dovrebbe cambiare colore vediamo si questo cambia colore guardate diventa rosa cioè oddio dalla fotocamera non si vede tantissimo ecco guardate guardate ecco vedete si vede un po' si su questo si vede molto meglio il cambio colore si vede che diventa rosa non è un cambio colore proprio fortissimo però ok comunque il più morbido in assoluto era quello rosa sentiamo l'odore di questo anche questo ha un piacevolissimo odore però sarà più di bagno schiuma che di dolce l'effetto cambia colore è veramente bello anche questo è super 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 flessibile devo dire sono un po' duri alcuni da allungare nel senso che bisogna fare veramente tanta forza guardate sta diventando rosa e si anche qui ha avuto sfortuna perché diventa comunque rosa bisogna essere molto 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 delicati nel maneggiarli vedete se andate lentamente lentamente si aprono bene ciao Daisy comunque non so se è riuscita a vedere dalla fotocamera ma ha cambiato completamente colore non so se si vede però dal vivo adesso è rosa ok Glitters allora io direi che il mio preferito fra questi è in assoluto questo rosa quindi wow ha vinto Daisy wow che bello non ci posso credere ho vinto e con uno slime rosa candy esatto Daisy esatto si trovo comunque che questo sia in assoluto il mio preferito almeno fra quelli che ho preso guardate quanto è morbido e quanto è bello poi ha un profumo bellissimo e voi fateci sapere quelli che avete preso voi mi raccomando qui sotto nei commenti in conclusione trovo che siano degli slime super super originali ovviamente bisogna maneggiarli molto lentamente insomma non come si maneggia un qualsiasi slime però in effetti non sono un qualsiasi slime sono gli slime demi contro te ed hanno questo effetto super 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 particolare wow ma bellissimo troppo bello quindi per me anche se sono un po' particolari da maneggiare guardate qui è morbidissimo adesso sono super promossi ma poi trovo bellissimi anche i braccialetti è ottima la scelta di mettere su ogni braccialetto una scritta diversa fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel pollice in su cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdere tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao